Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Fa particolarmente caldo quindi è possibile che non mi sciolga nel corso delle riprese, ma mi è arrivato un pacco, l'ennesimo direte voi, e devo per forza farvi vedere che cos'è. Vi dico semplicemente che è in collaborazione con Salve Digital che mi ha dato un buono da 50 euro per stampare un mio fotoquadro. Quindi quello che ho fatto è stato semplicemente scegliere tra le mie foto quella che volevo attendere in casa, nella foto nuova, selezionare il tipo di supporto, la grandezza con cui lo volevi, di cui volevo il fotoquadro e il gioco è fatto. Vi dico che la spedizione mi ha sorpreso perché è stata molto veloce, considerate che io l'ordine l'ho fatto il lunedì nel primo pomeriggio e il venerdì io avevo già il pacco. La spedizione come vi ho detto è molto veloce, circa 4-5 giorni calcolate, poi dipende se ci sono festività, sabati, domeniche, in mezzo, ma calcolate comunque con 1-5 giorni lavorativi. È arrivato il momento di farvi vedere il pacco e eccolo qua. Eccolo qua, non so se c'entra tutto nell'inquadratura perché è piuttosto grande. Andiamo ad aprirlo. imballato alla perfezione, quindi una grande cura anche nei dettagli da parte di SalDigital, ma d'altro dove sono tedeschi. Eccolo qua. Allora vi dico subito che è fatto in alluminio di bond e che è una 60x30, però appunto come vedete è una mia foto ed è scattata al lago di Barchis quest'inverno. Era una giornata praticamente perfetta e quindi ne ho approfittato per scattare un po' di fotografie. Devo dire che il livello di dettaglio, almeno visto così, ha come prima impressione è davvero molto molto buono. Magari vi farò comunque vedere un pochino più da vicino. E devo ammettere che rende molto bene anche il colore sull'alluminio di bond. Devo ammettere io sono molto molto contenta. Mi sembra una ditta molto seria e professionale con molta cura nei dettagli. Che comunque sia... Lo sto guardando e riguardando ma non trovo dei grandi difetti. Quindi assolutamente consigliati se dovete stamparvi delle foto. Non fanno semplicemente dei fotoquadri, sono specializzati in stampe fotografica in generale. Potete avere anche dei fotoquaderni, dei fotoalbum eccetera. Potete comunque accedere al loro sito che vi lascio qui in descrizione per dare un'occhiata ai loro prodotti e scegliere nel caso quello che fa per voi. Io vi lascio con la mia stampa. Spero di esservi stata utile con questa recensione. Spero che possiate lasciarvi un bel like soprattutto per avere la foto, non tanto per me. Vi ricordo che in descrizione, oltre al sito di SolDigital dove potete appunto andare a spulciare per i loro prodotti, potete trovare anche i link di social. Se avete qualche domanda potete lasciarla qui sotto nei tre commenti. Potete anche condividere il video se volete far conoscere questa azienda ai vostri amici appassionati di fotografia che magari vogliono fare in qualche stampa. Noi ci vediamo al prossimo video. Have a nice life!